Questa volta in primo piano una vera grande attrice, Beth Davis, è giunta a Roma per poche ore ed è ripartita subito per la Spagna. Quando parecchi anni fa interpretò mirabilmente Schiavo d'amore, la Lollobrigida aveva otto anni, la Loren 3, la Lazio non era ancora nata. Onore perciò a questa veterana, nelle rughe del suo volto è scritta la storia del grande cinema del passato, un cinema fondato principalmente sulla recitazione, proprio come quello d'oggi.